Nel video precedente abbiamo visto come le anime del purgatorio, o le anime in generale dei difunti, venissero da Padre Pio per ringraziarlo delle sue preghiere. E un altro episodio molto simile a quello raccontato nel video precedente è il seguente. Una sera, eravamo nel 1944 e quindi in piena guerra mondiale, piena seconda guerra mondiale, i frati del convento di San Giovanni Rotondo sentirono alcune voci provenienti dall'ingresso dello stesso. Queste voci dicevano chiaramente, viva Padre Pio, viva Padre Pio, viva Padre Pio. Il superiore, il padre Raffaele, incaricò Fra Gerardo di scendere per rendersi conto di cosa stava succedendo intorno alla porta d'ingresso del convento. Fra Gerardo andò e trovò che tutto era in ordine. La porta era chiusa, anzi, totalmente sbarrata, e riferì al superiore che tutto era in ordine, che non c'era niente che non andasse. Questi poi andò diritto da Padre Pio e Padre Pio lo tranquillizzò, e tranquillizzò anche il superiore dicendo che le voci che avevano sentito e quelle voci quindi che avevano gridato viva Padre Pio appartenevano in realtà a dei soldati defunti che erano venuti a ringraziare Padre Pio per le sue preghiere. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!